La mia famiglia si occupa da generazioni, i miei bisnonni, i trisavoli, hanno sempre coltivato l'oliva e solamente oliva minuta. Grazie alle caratteristiche paesaggistiche, alla monumentalità di piante, questa varietà è stata scelta per costruire un presidio, Slow Food, per la biodiversità. La coltivazione di questa cultura continua, il legame affettivo col territorio, anche con sacrifici, cerchiamo di mantenerla, di portarla avanti, soprattutto per non abbandonare la zona in cui uno è cennato e mantenere anche il territorio salvaguardandolo anche dall'impulio naturale.